L'Italia è il paese che amo, è qui con le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Ok, adesso che mi sono tolto lo sfizio di dire questa cosa che aspettavo dal 94, posso cominciare con il video un po' più serio. Mi chiamo Federico Bonollo, sono di Jesolo, io mi sono candidato perché all'epoca, qualche settimana fa, non sapevo bene chi sarebbero stati i vari candidati, avevo paura anch'io degli infiltrati e di tutto quello che avevamo già paura noi in tutta Italia. Alla fine invece è passato un bel periodo, ho potuto conoscere tutti quelli della provincia, un po' anche di Treviso e di Belluno e mi sono reso conto che ci sono degli ottimi e validi candidati per cui sicuramente il Movimento 5 Stelle avrà dei rappresentanti degni di fiducia. Per cui io sono già contento solo di poter essere presente e in ogni caso che darò una mano alla lista e chi sarà in lista per portarli in Parlamento. Io personalmente sono stato organizer del Basso Piave negli ultimi anni, mi sono un po' districato fra democrazia diretta, consigli comunali e webcam. Ho portato avanti i vari raccolti e firme, ho fatto il mio attivismo. Quello che sono convinto che funzionerà per i parlamentari 5 Stelle è quello che ho potuto vedere anche nel locale, cioè il nostro metodo. Questo metodo funziona e loro hanno difficoltà anche a starci dietro perché noi ormai viaggiamo a una velocità il triplo rispetto a loro. Per cui questa è la mia convinzione, per cui quest'anno sarà veramente una svolta per tutta l'Italia. Sono contento anche che si fanno le primarie online perché io sto cercando anche di portare qua in Veneto Liquid Feedback, che sarà anche un ottimo strumento che potremmo usare. E basta, auguro ancora una buona primaria a tutti e casta, stiamo arrivando!